Oh, grazie, grazie tanto. È sempre grandioso. Dov'è Mrs. Doubtfire? Non lo so, ma spero che dovunque sia stia bene. Cominciamo. Un kicker che caccia l'Europea, battuta liceo di Collier, giugno 76, laurea con una della stessa università, classe 1980, detentore di due regole, insieme di prima divisione, un'opera con una maggiore. Di continuo, una partita, un'opera distanza, già soprannominato il 1. Primero, un cateletta professionista, uscito da Collier County e prototipo di un americano modello. Noi continueremo, senza combattere! Noi continueremo a vivere! Noi soffra a vivere! Oggi festeggiamo il nostro giorno dell'indipendenza!